Musica Aveva da poco compiuto un furto nell'auto, infatti è stata trovata argenteria, arrestato dagli agenti della questura di Benevento, uno specialista in colpi in appartamento. Rapinata in casa a Ponte Landolfo, un'anziana è stata picchiata e derubata, bottino da 30.000 euro ad agire in due con passamontagna. Almaviva, petardi e fumogeni a Napoli, disagio per il traffico, in piazza anche lavoratori Gepin, mille posti a rischio. Il premier Matteo Renzi e il ministro Pinotti a Pozzuoli per l'inaugurazione dell'anno accademico degli istituti di formazione dell'aeronautica militare. La diocesi di Sessorunca risponde al richiamo dell'azienda sanitaria locale di Caserta al via la campagna di sensibilizzazione per le vaccinazioni. Esattamente 15 anni fa l'addio di Diego Maradona, il Pibe De Oro, fu festeggiato da 50.000 tifosi alla Bombonera. Nuovo appuntamento con l'informazione targata a Media TV. L'abbiamo appena sentito dai nostri titoli. Arrestato dalla polizia di Benevento, uno specialista in furti in appartamento. Il ladro, un 51enne partenopeo, è stato bloccato sul raccordo autostradale A16. Per gli inquirenti è solo un componente di una banda di professionisti. Continuano dunque le indagini. Sentiamo i dettagli. Arrestato dagli agenti della questura di Benevento, un ladro specializzato in furti in appartamento, grazie alla segnalazione e quindi alla collaborazione dei cittadini. La tecnica era sempre la stessa. Scardinava le porte e le finestre con un cilindro, normalmente utilizzato per svitare bulloni. Sicuramente il componente di una vera e propria banda di esperti che nell'ultimo periodo hanno svaliggiato numerosi appartamenti avvenuti in città. Dovrà ora rispondere di furto aggravato, resistenze e lesioni a pubblico ufficiale Vincenzo Dauria, napoletano di 51 anni, bloccato mentre si stava dirigendo al casello autostradale A16 di Castel del Lago, a bordo di una Fiat Bravo. Secondo gli investigatori, il partenopeo si sarebbe reso responsabile di un colpo di preziosi, oro e argento, messo a segno all'interno di un'abitazione di via Vambitelli, a Rione Mellusi della città. L'operazione condotta dalla squadra mobile in collaborazione con la volante La Polstrada è scattata in seguito alla segnalazione nei giorni scorsi della presenza in città di alcune auto, tra le quali anche la Fiat Bravo, bloccata sul raccordo, individuata nei pressi di abitazioni già svaliggiate nelle scorse settimane. Il lavoro dei poliziotti si è concentrato così sulla presenza a benevento delle vetture. Una volta notato che la Bravo era tra le strade cittadine, è scattato il piano delle forze dell'ordine che hanno immediatamente chiuso tutte le uscite della città. Sicuramente un dato importante di questa attività che abbiamo fatto è la segnalazione iniziale, perché alcuni giorni fa venne proprio da un cittadino segnalata una macchina sospetta che si era allontanata proprio da una zona dove erano stati consumati dei furti. Quindi questa attività rappresenta proprio l'esempio di come il cittadino anche possa collaborare con noi nell'ambito di attività di polizia, segnalando situazioni sospette, in modo tale da metterci in condizione di avere tutti gli elementi per poi porre in essere delle attività di polizia in maniera strutturata come è stata fatta ieri, in cui attraverso la segnalazione del transito di questa macchina noi abbiamo messo in piedi tutta un'attività, chiudendo letteralmente la città, abbiamo poi rintracciato il soggetto e siamo riusciti a bloccarlo, ricostruendo l'intera vicenda criminosa, arrivando all'abitazione dove era stato consumato il furto e quindi all'arresto. Quindi sicuramente un dato fondamentale è la collaborazione dei cittadini e noi ci aspettiamo. Nell'auto sono stati ritrovati guanti da lavoro, oggetti a te allo scasso ed un borsone colmo di argenteria. Il 51enne è stato riportato a Benevento ed è immediatamente partita la ricerca della casa svaliggiata da pochissimo. Nel corso delle ricerche però l'uomo, approfittando di un attimo di distrazione degli agenti, ha colpito con un calcio la portiera della volante, facendo perdere l'equilibrio al poliziotto e provando a scappare a piedi. Una fuga però durata pochissimo, in quanto le forze dell'ordine sono riuscite a riprenderlo. Per gli inquirenti è solo un componente di una banda di professionisti. Continuano dunque le indagini. Cinque rom sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casoria con le accuse di furto in abitazione, violenza e resistenza pubblico ufficiale. I cinque sono tutti domiciliati nel campo nomadi di via San Salvatore a Casoria e sono tutti già noti alle forze dell'ordine. I cinque, mentre tornavano al campo nomadi a bordo di Nove Lastra, sono stati fermati dai carabinieri per un controllo, ma non hanno rispettato l'alt. N'è nato l'inseguimento, durante il quale i militari sono stati speronati dai malviventi. Una volta perquisiti, i militari hanno rinvenuto gioielli d'oro, bigiotteria, guanti, scaldacollo e numerosi attrezzi da scasso. In teoria doveva essere fermo per una pausa di riposo, così come prescrive la legge, in pratica invece stava guidando. A scoprire il trucco è stata la polizia stradale di Benevento. Sentiamo. Oltre all'importante risultato conseguito dalla Polizia di Stato con l'arresto del 51enne napoletano incriminato per il furto in via Van Vitelli, la Polizia Stradale di Benevento ha realizzato un altro importante colpo durante i controlli di prevenzione attuati in relazioni alle specifiche attività di istituto. Durante un servizio mirato al controllo dei conducenti dei veicoli adibiti, al trasporto professionale di merci e passeggeri predisposto lungo la strada statale 372 Telesina, una pattuglia della Polizia Stradale è riuscita infatti a sorprendere l'autista di un mezzo pesante che tentava di eludere la stringente normativa in materia di tempi di guida e di riposo, posta dalla legge a tutela della qualità del lavoro degli operatori del settore, ma ancora prima a tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada. Gli operatori in servizio sulla Statalia all'altezza del comune di San Salvatore Telesino hanno notato il comportamento sospetto di un autotrasportatore che una volta avvistati gli agenti in lontananza si è fermato autonomamente circa 200 metri prima sulla corsia di emergenza in direzione Benevento. Il conducente è sceso dal veicolo e si è portato a tergo della cabina del camion, dove è rimasto fermo per circa 15 minuti. Vista la particolarità del comportamento, gli agenti si sono avvicinati al conducente del mezzo, un giovane casertano residente a Dugenta, chiedendo di esibire i documenti per il relativo controllo. Da un'attenta analisi dei dati, trasparivano diverse anomalie inerenti le ore di attività svolte dal conducente. Tenuto conto di ciò, nonché della sempre maggiore agitazione dell'utente, gli agenti hanno quindi deciso di approfondire i riscontri passando ad ispezionare il mezzo. Visto sia ormai incalzato, il conducente allora ha ammesso di aver alterato il crono tachigrafo, consegnando spontaneamente agli agenti la calamita utilizzata per perpetrare la violazione. A quel punto gli operatori non hanno potuto fare altro che combinare al trasgressore le elevatissime sanzioni previste dalla legge per la pericolosa infrazione. E caccia ai malviventi che hanno rapinato e picchiato un'anziana donna di Ponte Landolfo. Il bottino è stato di 30.000 euro. Il servizio. E allarme nel sannio per il susseguirsi di furti e rapine in casa. Quasi uno al giorno negli ultimi tempi. L'ennesimo colpo ai danni di anziani. Una fascia d'età debole e vulnerabile che la criminalità prende spesso di mira. Le hanno bussato alla porta di casa all'ora di cena e sono riusciti a farsi aprire utilizzando probabilmente una scusa banalissima. L'ottantenne di Ponte Landolfo è stata prima minacciata da due malviventi, poi picchiata selvaggiamente ed infine rapinata di circa 30.000 euro custoditi nel cassetto di un mobile e nella camera da letto. La rapina è venuta a mercoledì sera ad opera di due persone con il volto coperto da passamontagna, uno dei quali è armato di pistola. L'anziana è stata prima legata con alcuni stracci e poi malmenata barbaramente al volto, alle gambe e alle braccia. Terrorizzata dai due, è stata costretta alla fine a rivelare il nascondiglio dei suoi risparmi. In possessatisi del bottino, i due rapinatori sono fuggiti. Sono intervenuti i carabinieri e l'ambulanza del 118 che ha trasportato in ospedale la pensionata che è stata ricoverata. Nuova condanna per il baby boss Pasquale Sibillo, detto Lino, capo del gruppo camorristico componente la cosiddetta paranza dei bambini di Napoli. Il gruppo Piccirillo del Tribunale lo ha condannato a dieci anni di reclusione per traffico e spaccio. Condannato anche il padre, Vincenzo, a 12 anni di carcere. Alessandro Riccio, ritenuto elemento di spicco dei Sibillo, a cui è stato già combinato nel gastolo. A lui è stata inflitta una pena di 14 anni e 4 mesi di reclusione. Arrestanti imputati, complessivamente 15, sono state combinate pene variabili tra 6 e 14 anni. Il pregiudicato Luigi De Micco, 40 anni, ritenuto il capo del clan attivo nel quartiere Ponticelli, periferia orientale di Napoli, è stato ferito a colpi di pistola in un agguato avvenuto nel primo pomeriggio. De Micco, secondo la ricostruzione della polizia, si trovava in compagnia di un altro pregiudicato, Antonio Autore, 23 anni, in Vico Cupa Molisso. I due sono stati raggiunti da due persone su un'auto che indossavano caschi integrali ed hanno aperto il fuoco o almeno 15 proiettili esplosi che hanno raggiunto alla schiena e a un fianco Molisso ed Autore. I due non sono considerati in pericolo di vita. Sul agguato indaga la polizia. Nel 2014 rapinarono a mano armata una gioielleria di Giuliano, portando via gioielli e orologi per 200 mila euro. Nella rapina fu accusata Angela Piscopo, classe 77 di Casalnuovo, che fu sottoposta a fermo pochi giorni dopo. Oggi l'arresto anche dell'altro complice, Giuseppe D'Abrunzo, 35 anni di Qualiano, già noto alle forze dell'ordine. E' stato identificato e arrestato il 41enne che il 17 ottobre, per futili motivi, sparò contro un 33enne di Somma Vesuviana. Si tratta di Damiano Romano di Santa Anastasia, già noto alle forze dell'ordine. A suo carico i carabinieri, al termine delle indagini, hanno eseguito un'ordinanza di custode cautelare in carcere. Agrirì il vice sindaco Ferrentino, Fioraio e moglie, nei guai a Sarno. A casa, pensate, nascondevano esplosivi, droga e non solo. Sentiamo. 18 timer, un ordigno esplosivo di tipo artigianale con relativa miccia, una batteria per ciclomotori e alcuni inneschi collegati con cavi elettrici. Sono i materiali trovati a casa di Andrea Lanzieri. Arrestato per detenzione abusiva di materiale esplodente, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Ad ammanettarlo i poliziotti di Sarno, coadiuvati dagli agenti del reparto Prevenzione e Crimine Campania, al termine di un controllo per contrastare i reati di criminalità diffusa. Alla luce anche dei recenti gravi episodi che hanno funestato Sarno, come l'attentato alla serie del PD e l'aggressione al vice sindaco Gaetano Ferrentino. Nell'ambito di questa attività, gli agenti hanno effettuato la perquisizione a casa di Lanzieri, il cui esito ha consentito di arrestarlo insieme alla convivente, Vittoria Reblasio, anche la nota alle forze dell'ordine. Lanzieri, nato a Sarno 27 anni fa, ha precedenti reati contro il patrimonio, ma anche per spaccio di droga e detenzione abusiva di armi e munizioni. Il giovane si era reso responsabile lo scorso 25 ottobre di aggressione e lesioni al vice sindaco Ferrentino, a causa del mancato ottenimento di un appalto per la potatura di alberi in aree comunali, si legge nella nota della questura. Nell'abitazione, dove Lanzieri conviveva con la 23enne De Blasio, i poliziotti hanno trovato e sequestrato anche una busta contenente 125 grammi di marijuana, che la donna ha tentato di occultare gettandola nel water, e il telaio di un ciclomotore e una targa di provenienza furtiva. L'ordigno ritrovato a casa, realizzato allo stesso Lanzieri, vista la notevole potenza esplosiva, è stato affidato al nucleo artificieri della Polizia di Stato per il successivo accertamento e poi la distruzione. I carabinieri del comando stazione di Caiazzo unitamente al personale dei vigili del fuoco di Caserta hanno tratto in salvo un 83enne di Vitulazio, di cui si erano perse le tracce dalla tarda serata dell'8 novembre, quando si era allontanato dalla propria abitazione a bordo di un Fiat Fiorino, per recarsi presso un frantoio di Piana di Monteverna per la macina delle olive, senza più far rientro e senza dare alcuna notizia di sé. A denunciarle la scomparsa il 9 novembre presso il comando stazione dei carabinieri di Vitulazio sono stati due fratelli che, non trovandolo a casa e non avendolo visto rincasare la sera precedente, si sono preoccupati. I carabinieri acquisita la descrizione fisica dell'uomo e ogni altro elemento utile al suo rintraccio si sono subito attivati nella ricerca, perlustrando palmo a palmo tutta l'aria. Oggi, dopo un'incessante attività di ricerca, i militari della stazione di Caiazzo hanno dapprima individuato in aperta campagna il veicolo, poi hanno rivenuto l'uomo vivo, riverso a terra in mezzo alla fitta vegetazione. Dopo averlo liberato anche con l'ausilio dei vigili del fuoco, hanno richiesto l'intervento dell'ambulanza che lo ha trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Caserta, dove è stato sottoposto ad accertamenti. L'uomo, per fortuna, non è in pericolo di vita. I militari, questa volta della compagnia di Avellino, hanno tratto in arresto una 19enne di nazionalità rumena che si è reso responsabile di furto aggravato nel comune di San Martino, Valle Caudina. I fatti risalgono a qualche anno fa, quando il giovane, all'epoca ancora minorenne, domiciliato presso una comunità di recupero, si impossessava di due computer, portatili, monili l'oro e la somma contante di 200 euro, custoditi all'interno di una camera di un'alloggiata della predetta struttura di recupero, dove lo stesso era stato accolto. Il giovane, prontamente individuato, è stato deferito alla competenza d'orità giudiziaria. A Castelbaronia, invece, i militari della localizzazione hanno fermato due giovani, un macedone e un rumeno, entrambi residenti nel Foggiano, che si aggiravano con fare sospetto per le vie del centro cittadino. I militari hanno deciso così di approfondire il controllo. Deferita alla competente d'orità giudiziaria, una donna del mandamento baianese gravata da precedenti di polizia, ritenuta responsabile di truffa, l'indagine ha preso spunto dalla denuncia sporta ai carabinieri da una persona del luogo. I militari, a seguito di specifici accertamenti, hanno riscontrato che la 65enne, titolare di un'agenzia assicurativa, aveva rilasciato una polizza assicurativa per auto, risultata falsa. Per la donna è scattata ovviamente la denuncia, sono in corso ancora altre indagini. E siamo alla pagina delle proteste, Almaviva, petardi e fumogeni a Napoli, disagi per il traffico cittadino, in piazza anche lavoratori Gepin, mille posti a rischio. Il servizio. Cori, petardi, fumogeni e pesanti disagi per il traffico. I lavoratori di Almaviva e Gepin hanno manifestato a Napoli, a sostegno delle due vertenze che li riguardano e che vedono a rischio, tra Napoli e Casavatore, dove sono presenti le due aziende, più dei mille posti di lavoro. La manifestazione è partita dalla sede Almaviva di via Brin, pesanti ripercussioni al traffico, in particolare quando il corteo ha raggiunto via Galileo Ferraris, in prossimità dell'ingresso dell'autostrada. Successivamente i lavoratori hanno attraversato Corso Umberto, per poi raggiungere piazza del Plebiscito, sede della prefettura. L'azienda ha proposto delle oscenità sul tavolo e dal governo ci siamo sentiti dire che bisognava trattare su tutto quello che noi abbiamo sempre rigettato al mittente. Quindi ora noi chiediamo che il governo lealmente intervenga concretamente senza abbassare il costo del lavoro, che il costo del lavoro è sancito da quello che è un contratto nazionale e come tale deve rimanere. Viviamo con la paura di perdere il lavoro, sono dieci anni che lavoriamo e stiamo lottando per un lavoro che non ci sostiene, però pretendiamo che si rispetti la legge. 845 dipendenti licenziati in una città come Napoli non ce li possiamo proprio permettere. L'azienda per il momento dichiara che non ritira ancora questi licenziamenti, che va avanti per la sua strada e stiamo aspettando ancora che vengano convocati per un tavolo al Mise dove c'è la trattativa in corso. La sede di Casalatore è chiusa, quindi 220 persone sono per strada. Noi siamo uniti all'armativa, stiamo lottando insieme per via del problema di tutto il settore dei call center e anche per il nostro problema, perché noi siamo stati fatti fuori da Poste Italiane, noi siamo un'azienda che ha lavorato per Poste Italiane da 13 anni, anzi da più di 13 anni insomma. Noi abbiamo sempre lavorato sotto il nome di Poste Italiane, noi rispondevamo buongiorno sono Poste Italiane e con login di Poste Italiane utilizziamo gli stessi programmi degli uffici postali. Quindi non cambia assolutamente nulla. Monsignor Domenico Battaglia, vescovo della diocesi di Cerreto Sanita Telese Sant'Agata dei Goti, ha scritto una lettera al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti e inoltrata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. Dopo aver incontrato una rappresentanza di lavoratori, vorrei tuttavia scrivere per adesso richiamarle la situazione dell'area di crisi di Airola, che comprende alcuni comuni della mia diocesi, dove il Governo insieme alla Regione Campania sta investendo risorse per il rilancio e la riconversione delle imprese con fondi a valere sul piano azione e coesione, dichiarando recentissimamente tale area anche come di crisi non complessa. Nella lettera Don Mimmo scrive ancora ebbene si presenta ai miei occhi una palese ingiustizia. I lavoratori coinvolti nella crisi dell'ex gruppo Tessi Valbenfil rischiano di perdere i sussidi in deroga per l'anno 2017 per un intralcio burocratico, in quanto Airola e tutte le aree di crisi campane non ricadono nelle aree di crisi complessa. Il Governo ha previsto con il recentissimo Decreto Legislativo 185 la concessione degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2017, solo per tale ultimo tipo di aree di crisi. È una situazione concluta e davvero paradossale e profondamente ingiusta. Il 12 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, il 13 novembre dalle 10 alle 13 il Comitato SOS 372 Benevento-Cajanello allestirà un gazebo a Benevento in Piazza Castello, fronte Prefettura, al fine di dare inizio alla raccolta firme per la petizione da inoltrare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto quanto segue, sensibilizzare il Ministro e il suo di Castero affinché attivi tutte le procedure necessarie alla programmazione in tempi brevi dell'ammodernamento della statale telesina. Nello specifico si chiede di monitorare ed incentivare la manutenzione da parte degli enti preposti, sia ordinaria che straordinaria, dell'arteria stradale, soprattutto in considerazione della notevole importanza della stessa e del notevole flusso di auto ed autotreni giornalieri. Disposta l'istituzione di un senso unico alternato sulla strada provinciale 87 nel tratto compreso tra il cimitero e il centro abitato di San Lupo. Il provvedimento fa seguito ad un sopralluogo dal quale è emerso il grave pericolo per la circolazione stradale rappresentato dal costone roccioso sovrastante l'arteria provinciale che minaccia di franare a valle. Del resto, dallo stesso costone si è già staccato un grosso masso che è finito sulla carreggiata. Il premier Matteo Renzi a Pozzuoli per presenziare all'inaugurazione dell'anno accademico dell'aeronautica militare. Con lui anche il ministro della difesa, Roberta Pinotti. Vediamo. Da Leonardo da Vinci ad Alessandro Manzoni, passando per i non luoghi di Marco Augè e concludendo con l'aviere più famoso della letteratura mondiale, Antoine de Saint-Estupéry. Il premier Matteo Renzi intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico della scuola ufficiale dell'aeronautica di Pozzuoli ha sottolineato l'importanza per gli allievi di essere eccellenza soffermandosi sul senso di identità italiano, fautore di eccellenze a livello mondiale. Un monito rivolto a cittadini ed istituzioni sulle modalità di confronto con l'Europa, ma che è sembrato essere rivolto soprattutto ai vertici di Bruxelles. Il mondo ha molto bisogno dell'Italia. Bisogna farla finita con l'atteggiamento rinunciadario per cui l'Italia va in Europa a dire ce lo chiede l'Europa. Smettiamo di dire che cosa ci chiede l'Europa. Iniziamo a dire che cosa vogliamo dire e dare noi all'Europa. A partire dai tempi, certo, della difesa comune che non noi ma altri paesi hanno evocato per poi bloccare fin dagli anni 50. Che non noi ma altri paesi hanno puntualmente richiamato salvo poi non fare niente concretamente perché venisse realizzato. La cerimonia alla presenza del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Enzo Veciarelli ha visto la consegna delle consuete onoreficenze ai componenti del corpo. Presente il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, che ha ricordato gli impegni in Libia e durante il terremoto del centro Italia. Dal 14 settembre noi siamo in Libia. I primi sanitari a mettere piede a misurata sono stati i medici e i paramedici del terzo stormo dell'Aeronautica Militare. Ovviamente colpivati da un'efficiente tempestiva azione di numerose unità dell'esercito. Appena sono arrivata da matrice, uno dei primi assetti che abbiamo portato da matrice è la stazione di controllo del traffico aereo mobile. Una situazione come quella di Matrice dove dovevano arrivare molti elicotteri, molti aiuti, questa capacità, cioè il controllo del traffico aereo per evitare che ci potessero essere incidenti è un elemento fondamentale. La diocesi di Sessa-Urunca partecipa alla campagna di informazione e sensibilizzazione sulle vaccinazioni, progetto in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Caserta. Sentiamo. Non si può rimanere sordi alla richiesta di attenzione su un tema delicatissimo, quello della salute. L'ASL si è rivolta alla diocesi per poter sensibilizzare anche attraverso le parrocchie sul tema della vaccinazione. Ultimamente molte cose sono state dette, molto spesso sono state anche instillate paure inutili e vane perché il tema della vaccinazione, sia che riguarda i bambini, che riguarda gli adulti, non è importante solo per il bene della salute della persona, ma anche di tutte le realtà in cui la persona si trova a vivere relazioni. Il nostro obiettivo è di tutelare la tutela della salute e quindi vi invitiamo ad aderire alle vaccinazioni in genere e in questo periodo a migliorare il ricorso alla vaccinazione antinfluenzale. Il vaccino è disponibile sia presso i medici curanti che hanno fatto richiesta, come prevede la normativa regionale, ma è disponibile in qualsiasi momento anche presso i centri vaccinali dell'ASL di Caserta. Vi prego, nelle parrocchie troverete materiale a questo opportuno per questo tipo di divulgazione, rendetevi conto di che si tratta e soprattutto abbiate a cuore la vostra salute e quella degli altri. Preparativi in corso per la 39esima edizione della Festa dei Cornuti che si svolgerà a Ruviano il 12 novembre 2016. Tradizione vuole che San Martino sia anche il prodettore dei cornuti ed è per questo che ogni anno si ripropone questa sfilata goliardica che vide protagonisti in un gruppo di uomini di Ruviano in una sera di novembre di 39 anni fa. Il programma prevede il raduno alle 18.30, alle 19 la processione nel centro storico con la celebrazione dei riti, alle 21.30 spettacolo, ma anche tante altre sorprese. Siamo alla pagina sportiva. 15 anni fa la partita di addio al calcio di Diego Armando Maradona e in 50.000 sugli spalti il servizio per ricordare insieme quel momento emozionante per il campione argentino e per il popolo dei tifosi. Vediamo. 15 anni fa la partita di addio al calcio per Diego Maradona alla Bombonera di Buenos Aires scesero in campo la nazionale argentina ed una selezione di campioni, ma i 50.000 sugli spalti erano naturalmente tutti per il Pipe de Oro. Nel mare di cartelli e striscioni uno diceva da Salerno 18.000 chilometri solo per Diego. Il momento è arrivato, disse Maradona prima di scendere in campo. Certo, 41 anni pesano. Fu una serata memorabile su due maxi schermi, le tappe della carriera del campione, i suoi gol, le sue azioni più belle. L'ex re di Napoli pianse a lungo nel dopo partita. Vi prego, disse il capitano dell'Argentina, campione del mondo, nell'86, fate che questo amore non finisca mai. Il fútbol è il deporte più bucato e più sano del mondo. E non lo dudo a nessuno. Perché se equivoca uno, non ha bisogno di pagare il fútbol. Io mi equivoca e pagare. Però la pelota non si manca. Il Pipe d'Oro fece grande anche il Napoli per sette anni, fra il 1984 e il 1991, guidando gli azzurri alla vittoria di due scudetti. E parliamo proprio del Napoli calcio. Sta bene il ginocchio sinistro di Arcadius Milik. L'attaccante può iniziare a correre con la palla per riprodurre il gesto tecnico. Lo comunica il Napoli a seguito della visita di controllo a cui il giocatore si è sottoposto. Milik può cominciare quindi a correre con il pallone a Castelvolturno, proseguendo il potenziamento muscolare secondo la tabella di riabilitazione che prevede anche la preparazione atletica in acqua. Ancora allenamenti per gli altri compagni di squadra approfittando dello stop di campionato. E siamo alla Serie B. Ultima notizia per l'evento calcio. Lucione e compagni sono tornati sul rettangolo verde di Via Ariella per una seduta di allenamento a porte aperte. Eseguita la consueta conferenza stampa infrasettimanale. Con questa notizia ci salutiamo. Io vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo e della nostra programmazione. Arrivederci. Grazie a tutti. Previsioni per venerdì 11 novembre 2016. Tempo che sarà instabile sui settori tirrenici anche contemporali. Più asciutto invece altrove. Ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it. Al nord isolato temporale sulla Venezia Giulia avremo nevicate sui confini alpini a bassa quota a cielo che sarà poco nuvoloso sul resto dei settori. Spostiamoci al centro a tesi temporali in Toscana, Umbria sulla costa meridionale del Lazio e in Sardegna sul medio Campidano. Altrove bel tempo. Raggiungiamo infine le nostre regioni meridionali rovesci e temporali su coste dentro terra di Campania e Calabria Tirrenica. Cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni. Come saranno invece i venti? saranno forti, diponente sul Tirreno, deboli o moderati altrove. Concludiamo come di consueto con le temperature previste per questa giornata dell'11 novembre. Minime che risultano essere in leggero aumento al nord, valori compresi tra 0 e 15 gradi circa. Durante il giorno prevediamo invece 9-16 gradi al nord, 10-17 gradi al centro e fino a 20-21 gradi al sud. Grazie.